Ciao a tutti voi da Rossi, benvenuti all'appuntamento con Outlet Divani e anche oggi una puntata straordinaria, un saluto subito a Elisa, ciao e naturalmente la parola a Ottavio, dai a te la parola Eccoci qua, allora questo mese partiamo, chiaramente c'è la Fiera del Mobile quindi tutti i modelli che verranno presentati alla Fiera del Mobile dovranno essere quindi proposti da Outlet Divani ma per poterli proporre dobbiamo fare spazio e quindi dobbiamo eliminare dei prodotti che abbiamo qui in esposizione e andranno addirittura con uno sconto quasi fino al 70% quindi questa puntata la dedichiamo proprio ai modelli che dovremmo andare ad eliminare per inserire quelli nuovi e con uno sconto appunto fino al 70% quindi è un'occasione che succede anche dopo i saldi quindi una volta all'anno questa cosa è sicuramente da sfruttare Assolutamente sì e come dico sempre prima di acquistare il divano fate sicuramente un salto qui in Outlet Divani e in questo momento ancora di più perché potreste usufruire di questo sconto che arriva addirittura fino al 70% quindi davvero straordinario e una cosa in più come vedete nelle immagini dal primo di aprile comprando un divano o un materasso o un topper o qualsiasi cosa quindi il valore anche da un euro si può vincere 1500 euro di buoni Amazon quindi come vedete le date le vedete qui sotto e verrà estratto un fortunato che vincerà 1500 euro di buoni Amazon Rossi un fantastico esempio in occasione del fuori tutto prima del salone del mobile praticamente presentiamo il modello Giulio un fantastico modello di design un prezzo mai visto praticamente da 1680 euro prezzo di listino prezzo scontato lo vendevamo 840 ma questo pezzo proprio fisicamente in Mozart Elephant con la penisola a sinistra con un mega contenitore lettino estraibile, piedini alti di design poggia a destra proprio cricchetto se va bene per le vostre misure e tutto quanto 590 euro quindi un prezzo mai visto assolutamente straordinario potete approfittare per il fuori tutto venite qui scegliete questo fisicamente quindi un'unica disponibilità a un prezzo che è veramente incredibile visto anche la grandezza di questo divano 590 euro ricordiamo il prezzo Rossi un altro fantastico modello completamente sfoderabile in tessuto antimacchietro repellente il modello Carducci di un noto brand abbiamo a disposizione due pezzi quindi con penisola guardandolo a destra con due slitte scorrevoli per il vostro relax ad un prezzo imbattibile di 690 euro prezzo normalmente venduto in outlet 1690 euro quindi a 790 euro un prezzo imbattibile assolutamente sì approfittatene Rossi un fantastico modello in occasione appunto del rinnovo per il salone del mobile il modello Dolphin normalmente proposto a 3490 euro qua proponiamo un prezzo proprio mai visto con relax penisola ne abbiamo soltanto 4 pezzi in questa versione immensa da 3 metri bellissimo è ottimo vero? e il prezzo imbattibile 1290 euro ultimi 4 prezzi affrettatevi fra l'altro è bellissimo venite a sentirlo al tatto è davvero veramente molto bello oltre che essere confortevole avete visto? io mi sono sdraiata solo fino a un certo punto ma è veramente super rilassante è un tessuto Tecno Water Clean antimacchia trorepellente in color Tortora e abbiamo disponibile penisola a destra e a sinistra cioè si può orientare sia a destra che a sinistra 4 pezzi ma sono solo 4 pezzi approfittatene Rossi un altro fantastico esempio un modello angolare fantastico il modello Sorrento di un noto brand pensate venduto a oltre 4700 euro prezzo di negozio di listino invece lo proponevamo a 2350 ma adesso in occasione appunto del fuoridutto per il rinnovo del salone del mobile un prezzo imbattibile 1490 un bellissimo angolare bene ne abbiamo due pezzi in Tecno Water Clean grigio scuro antracite perfetto fra l'altro il Tecno Water Clean è un tessuto come avete sentito come avete visto nell'immagine che si pulisce davvero facilmente anche solo con acqua perciò insomma approfittatene perché è un prezzo veramente straordinario Rossi un altro fantastico modello per chi avesse meno spazio a disposizione abbiamo un fantastico Dani un prezzo speciale in tessuto antimacchia trorepellente Tecno Water Clean grigio scuro pensate 2 metri 40 per 155 160 di penisola quindi contenitore e lettino estraibile ma il prezzo è imbattibile da 1590 euro prezzo di listino diciamo prezzo di negozio lo vendiamo a 990 euro quindi affrettatevi perché è un unico pezzo sì quindi pezzo unico ancora una volta come abbiamo detto in inizio di trasmissione si svuota l'autoletta di divani per far posto ai nuovi divani che arriveranno dal salone del mobile per cui è il motivo è il momento giusto per approfittarne con sconti davvero straordinari un'altra promozione le prime erano pezzi unici o pochissimi pezzi qui ne abbiamo 10 anche a magazzino quindi non vediamo questi qui esposti ma li prendiamo dal magazzino un divano nuovo particolare molto grande che ha la particolarità di avere due chaise longue nascoste all'interno del divano quindi cricchettini regolabili come ci sta facendo vedere Andrea qui dietro molto molto imbottito basta sedersi schiacciare e va avanti e diventa praticamente una doppia chaise longue quindi ripeto il nostro divano le ora 10 pezzi 990 euro in pronta consegna in questo tessuto fantastico grigio altra promozione sempre dal nostro magazzino quindi non questi esposti li prendiamo direttamente dal magazzino abbiamo circa un 12 pezzi sia del tre posti che del due posti li abbiamo ribassati ancora ulteriormente tre posti con due relax meccanici come vedete nelle immagini 790 euro scontati più del 50% quindi quasi al 70% quindi circa 1590 euro 790 euro per il tre posti con due relax meccanici mentre il due posti abbiamo il prezzo di 750 euro finito con due relax manuali come vedete nelle immagini quindi vi aspettiamo Rosy presentiamo anche questa fantastica coppia di divani stock Nando l'abbiamo chiamata tre posti e due posti il tre posti pensate è un prezzo imbattibile di 490 euro ribassato in occasione di questo fuoridutto per il rinnovo del salone del mobile e il due posti è 390 euro una dimensione di 160 per 90 cm di profondità il tre posti due metri sono veramente belli comodi e anche al tatto sono morbidissimi venite qui perché come dico sempre arrivando qui in Autolette Divani avrete l'opportunità di vedere in esposizione tantissimi modelli per cui potete provarli potete sedervi e sentire se è proprio il divano giusto per voi altra promozione sempre dal magazzino sono rimasti pochissimi pezzi pensate che erano circa 100 pezzi gli ultimi 4 li abbiamo messi 1190 euro sconto Outlet 8,90 gli ultimi 4 590 euro doppio relax elettrico come vedete nelle immagini pulsantiere a usb ripeto prezzo incredibile 590 euro sono veramente dei prezzi incredibili vi ricordo che tutto quello che vi stiamo facendo vedere siamo nel negozio di Varedo ma in tutti gli altri negozi comunque ci saranno delle occasioni come queste qua quindi potete comodamente girare tutti i negozi che volete e cercare il vostro il vostro pezzo d'occasione quindi vi aspettiamo nei nostri negozi e passiamo alla prossima promozione altra promozione del magazzino nel nostro divano William un cavallo di battaglia ne avevamo anche qui veramente tantissimi sono rimasti gli ultimi sempre a 950 euro prezzo speciale doppio relax elettrico quindi pensate a 950 euro 2 relax elettrici con un tessuto antimacchia molto bene imbottito lo schienale io credo che a 950 euro credo in Italia ne trovate 3 posti con un relax elettrico da noi ne trovate con 2 relax elettrici quindi ripeto 950 euro 3 posti 2 relax elettrici vi aspettiamo altro esempio il nostro divano ischia con penisola e relax elettrico dalla parte sinistra allora di questo divano qua ne abbiamo circa 3 e sono tutti sparsi nei negozi quindi non vi diciamo dove dovete andare a cercarlo e per farvi vedere una sorpresa per farvi vedere che non diciamo assolutamente delle bugie questo è il prezzo della promozione precedente che era lo spacca prezzo potete andare su internet a verificare il prezzo 2290 sconto 1290 euro adesso lo ribassiamo ancora per il fuoritutto sconto fino al 70% 990 euro quindi praticamente se dovete comprarlo nuovo solo diciamo rifarlo nel colore che volete con 990 euro non pagate neanche la penisola quindi 990 euro un relax elettrico e penisola non vi dico dov'è dovete cercarlo o lissone vabbè questo si sa che è Varedo perché si chiama Varedo lissone Varedo Assago Erba e lecco vi aspettiamo pezzo unico Varedo tenete presente che il primo prezzo di un divano letto sono circa 690 euro questo il materasso alto 17 con il materasso da 140 al suo interno 590 euro quindi questo scontato più del 70% 590 euro il prezzo di listino è circa sui 1500 euro vi ricordo comunque che siamo pieni di pezzi unici proprio per lo spazio del salone del mobile quindi venite a trovarci in tutti i negozi e ricordo come vedete sempre che esce qui in sovraimpressione la lotteria quindi se acquistate un divano dal primo di aprile fino alle date di scadenza che vedete col regolamento su www.outletivani.it oltre a comprare il divano a un prezzo super scontatissimo potrete avere vincere 1500 euro di buoni Amazon con un'estrazione che verrà fatta proprio regolare presso il negozio di Assago con un evento quindi adesso ci ci adentriamo sui materassi e vi lascio in compagnia di Rosi e l'Elisa per le poltrone relax Rosi la nostra fabbrica in Brianza ricordiamo che produce anche dei materassi splendidi con tessuti o ecotex certificati analergici comodissimi abbiamo questo in promozione proprio super promozione con un centimetro e mezzo di memory il biomemory alto 24 centimetri 299 il matrimoniale 199 euro il singolo ma anche fantastici materassi con molle insacchettate e memory topper molto alti da 9 centimetri molle insacchettate alte molto rigidi come il 3D silver con 4 centimetri di memory sia matrimoniali che singoli e facciamo anche i su misura e i letti contenitori a prezzi imbattibili a partire da 590 euro come questo fantastico modello nuvola in color tortora che è il più venduto a 590 euro ovviamente potete scegliere anche i colori farli singoli matrimoniali piazza e mezza insomma tutto ciò che desiderate per quanto riguarda il vostro riposo il vostro relax lo trovate quindi che sia il divano che sia il materasso che sia il letto trovate sicuramente la soluzione giusta per voi e in questo momento mi raccomando ci sono sconti veramente straordinari parliamo ancora di relax andiamo a vedere le poltrone Rosi qua ci troviamo nel reparto delle poltrone relax alzata persone quindi un fantastico reparto anche qua con kit roller quindi per trasportare la poltrona anche con su l'utente da una stanza a un'altra quindi braccioli questa fantastica modello chiara in colore blu tessuto antimacchietro repellente con kit roller relax alzata persona doppio motore un prezzo imbattibile di 790 euro se vogliamo il colore a scelta 890 euro si personalizza comunque se dovete scegliere una poltrona varie le misure sicuramente c'è quella che fa per voi ricordate il concorso potreste vincere 1500 euro in buoni amazon leggete tutto qua sotto e comunque venite per chiedere informazioni ma soprattutto venite a scegliere il vostro divano quindi prima di acquistare un divano una poltrona o un batterasso o un letto contenitore venite qui perché sono certa che troverete in uno dei punti vendita quello che state cercando grazie Risa alla prossima grazie a tutti voi ciao